È accusata di aver rubato Bancomat e carte di credito ai pazienti del Santo Stefano dove lavorava come osse da qualche tempo. Per questo motivo una donna di 55 anni di origine rumena residente a Firenze è stata denunciata dai carabinieri di Prato per furto e utilizzo in debito delle carte di credito. La procura ha già chiesto a suo carico misure cautelari ancora non concesse dal GIP. La donna è stata messa in ferie forzate dall'ASL in attesa di chiarire la vicenda che se confermata porterà il suo licenziamento. In questo momento la persona non è in servizio, attendiamo la formalizzazione da parte dell'autorità giudiziaria per poi attivare anche l'ufficio di provvedimenti disciplinari e tutto quello che poi ne consegue. Le indagini sono partite il 5 giugno quando un uomo ha denunciato di aver scoperto una serie di piccoli pagamenti fatti con il Bancomat della figlia a 50enne malata oncologica terminale poi deciduta al Santo Stefano. Alcuni di questi pagamenti erano stati fatti anche il giorno del decesso della donna. I carabinieri hanno così acquisito i dati bancari e visto che le spese, tutto inferiore ai 25 euro per non dover digitare il PIN, erano stati fatti in alcuni supermercati e farmacie. Ai militari è bastato così acquisire le immagini delle videosorveglianze per vedere che la carta era usata dalla 55enne che lavorava nello stesso reparto dove era ricoverata la paziente. A quel punto è scattata la perquisizione dell'armadetto della donna, della casa e della sua auto e proprio sotto i tappetini della vettura è stato trovato il Bancomat della donna morta insieme ad altre carte risultate trafugate a pazienti gravi che erano ricoverati in ospedale. Dal conto della 50enne morta per tumore sono stati prelevati circa 500 euro. Il padre ha anche detto che quando tutto questo sarà finito la somma che è stata prelevata in maniera fraudolenta dal conto della figlia verrà dato in beneficenza. I carabinieri stanno indagando su almeno altri tre casi ed estenderanno gli accertamenti all'ospedale Le Scotte di Siena dove la OSSE lavorava precedentemente. Non è una giustificazione ma l'ha fatto per indigenza? No, credo di no. È una dipendente pubblica con uno stipendio adeguato, una casa, un'auto più che adeguata. Perché l'ha fatto? Probabilmente pensava di farla franca. La gente non se ne accorgesse che presi dal dolore per la perdita di un proprio caro evitassero di far denuncia. L'Asto Scana Centro che ha collaborato da subito con i carabinieri non ha ricevuto alcuna segnalazione da parte dei familiari, dei degenti e dal personale su furti e su eventuali comportamenti anomali della OSSE. È importante che ci fosse anche io oggi proprio per testimoniare che, ripeto, io in prima persona ma tutti i colleghi siamo fortemente scossi e siamo convinti che ovviamente qualsiasi tipo di comportamento di questo genere debba essere assolutamente bandito da parte ognuno di noi.